Importanti ore di valutazione in casa Taranto relative all'organico, la prestazione contro la Gelbison ha certificato le problematiche dello stesso e già da sabato sera, poco dopo la disfatta, il DS Evangelisti si è messo all'opera per garantire a Capuano almeno un rinforzo per reparto che possa fornire maggiore qualità a una squadra oggettivamente in difficoltà. Il primo volto nuovo riguarderà il centrocampo, tutto fatto per Gaston Ciapi Romano, classe 98, il metronomo argentino è reduce dalle esperienze in Portogallo ma già da qualche tempo è in prova con il gruppo rosso-blu. Può essere utilizzato sia in mediana, nelle vesti quindi di regista, ma anche in posizione più avanzata, dinamica da non sottovalutare considerando che Capuano nel secondo tempo di Pagani ha sperimentato un insolito 3-4-1-2. La società ionica dispone di due slot, uno andrà ad appannaggio di Romano, l'altro probabilmente di un centrale difensivo considerando le numerose difficoltà riscontrate dal terzetto di retroguardia. Possibile inoltre la rescissione con un elemento over in modo tale da favorire l'arrivo di un centramanti di categoria che possa risolvere l'impasso offensiva.